Nell'educazione dello sport significa crescere nell'educazione alla vita. Lo slogan di quest'anno, tutti i protagonisti, nessuno escluso, credo che la dica è ben lunga, in questo sport l'Unicef si ritrova pienamente. Congratulazioni di nuovo e buona giornata di sport a tutti. Grazie, grazie Donatella. Saluto anche il professor Santino Mariano che è tra di noi, in rappresentanza dell'ufficio scolastico provinciale, coordinamento educazione motoria, fisica e sportiva. Un'altra cosa molto importante, anche del sport scolastico, che sono arrivate tutte le bandiere. È un primo momento in cui i bambini si approcciano con l'attività motoria e cominciano a conoscere le discipline sportive di cui magari poi si innamorano sperando che i risultati siano sempre migliori. Tanti sport in gioco, palla, beach volley, beach ballamano, ginnastica e tante altre attività che si stanno svolgendo qui sul lungomare di Crotone in questa bellissima giornata dedicata allo sport.